Io sono fortunato a intervenire dopo Alfredo e Gianni perché i due punti che volevo porre nei sette minuti in diretta web sono esattamente uno sulla forma partito e rapporto con Grillo e uno sull'Europa. Meno male che i sette minuti ci obbligano tutti a non rifare l'analisi che diamo per buona e che io condivido. Sull'Europa voglio partire consegnando una preoccupazione positiva, propositiva a Pierluigi e alla direzione. Non c'è dubbio che una delle cause formidabili di questo tsunami politico viene dall'Europa, viene anzi da una crisi globale, prima non europea, poi europea, che rimbalza su un corpo come quello italiano, fragile strutturalmente e reso ancora più fragile dal governo della destra negli ultimi anni. Quindi mai come questa volta l'Europa, direttamente e indirettamente, spesso ce ne lamentavamo, è stata al centro della campagna elettorale. È l'Europa quella che alla fine ha sanzionato la non credibilità di Berlusconi, è l'Europa che ha dato la credibilità presunto reale a Monti, prima di guidare il Paese e poi di tentare un'avventura elettorale. È in Europa che noi abbiamo cercato compagnia e rapporti, alleanze politiche per dare una via d'uscita che non fosse solo nazionale alle nostre preoccupazioni. Ecco, il mio grande timore è che colti dall'onda in faccia, l'output di tutto questo processo siano due anni rattrappiti su questioni domestiche. Cioè l'Europa che è stata la causa di tutta questa roba qui, alla fine diventa neanche un punto degli otto, infatti in realtà so che c'è, per su quello voglio arrivare, ma voglio appunto dargli enfasi, ma noi pensiamo di affrontare l'onda con un provvedimento sul costo della politica, un'innovazione magari sul digitale, tutte cose utili ma che muovono a partire da una coerenza con quell'architrave che è al di fuori di noi, è al di fuori dai confini nazionali. Per cui se posso dire una cosa al Pierluigi, spero, incaricato di formare un governo con successo, è di buttare oggi tutto il peso che questo Paese può mettere sul tavolo europeo per cambiare da lì la direzione di marcia, perché non c'è smart grid che tenga se noi non riusciamo a cambiare le regole che sovrintendono oggi alle politiche economiche europee. E lo sappiamo perché per un verso in questi mesi abbiamo misurato come l'Europa che soffriva di più, quella mediterranea, avesse guardato all'Italia con enorme speranza, sperando che nell'Europa mediterranea noi potessimo essere la mini locomotiva che cambiava la direzione di marcia delle politiche europee, siamo stati guardati con speranza dalla Francia per fare valore massa critica per riuscire a impattare sull'agenda tedesca, siamo stati guardati con molta attenzione dalla Germania. Oggi invece di portare un risultato limpido, netto, positivo, portiamo forse una malattia ingigantita, ma a questo punto dobbiamo fare di necessità virtù e portare questa malattia ingigantita con il peso di un Paese che può, se non si cambia politica, far deragliare l'intera agenda europea. Quando abbiamo ospitato e invitato i leader europei ci hanno detto, non era soltanto un endorsement elettorale così convenzionale, ci hanno detto vincete per voi ma vincete anche per l'Europa. Abbiamo vinto a metà o forse non si è vinto per niente, ma ancora una volta questo risultato lo possiamo spendere sull'Europa e non soltanto in dimensioni domestiche. Anche perché, e chiudo su questo punto, non ci dimentichiamo una cosa, fra un anno noi andiamo a elezioni europee, grosso modo, 2014 e l'Italia dopo 12 anni, 13 anni sarà il Paese che gestirà il semestre europeo, il secondo semestre del 2014 dopo le elezioni. Primo Paese grande dopo tre Paesi piccoli, primo Paese della zona euro dopo tre Paesi non euro, Paese che dovrà in qualche modo sovrintendere alla redistribuzione del mazzo delle carte delle nuove responsabilità europee. Quindi l'idea che noi ci arriviamo dopo un anno e mezzo di orizzonte tutto introspettivo, tutto legato a come ricostruire a partire dai legami solo domestici il rapporto fra politica e istituzioni, cittadini, società e partiti, può diventare una gigantesca occasione perduta. Guardate già accadde, perché noi abbiamo fra il 92 e il 94 attraversato una fase in cui il mondo cambiava, il mondo di Berlino al tempo era caduto, arrivò Maastricht, la lira uscì fuori dallo SME e noi siamo stati due anni su mani pulite. Poi abbiamo pensato di rifarci una politica estera mandando per qualche anno un po' di militari all'estero per dire ci siamo anche noi, ma nel momento in cui il mondo cambiava, i primi degli anni 90, anche in quella fase noi attraversiamo un periodo tutto introspettivo mentre il mondo ci cambiava intorno. Il mondo ci ricambia un'altra volta e noi rischiamo di ripercorrere lo stesso sentiero. Quindi l'invito a enfatizzare, non ad aggiungere un punto agli otto, ma a dare grande valore a quello che per me resta l'architrave rispetto al quale diventano compatibili anche gli altri punti che Bersani porterà alla discussione parlamentare, speriamo. La seconda questione su Grillo. Effettivamente è un oggetto sconosciuto e quindi azzardiamo delle ipotesi per ora. Io mi permetto di dire queste in un minuto. Ci sono quantomeno tre livelli. C'è ovviamente il livello del vertice, che è quello che a me piace di meno. Insomma è la SRL dalle regole poco trasparenti, è il vertice non contendibile. Non è una cosa nuova, è una cosa che in forme di vex abbiamo già visto e non ha niente a che vedere con la democrazia costituzionale dei partiti che intenderemo praticare. C'è il livello degli eletti, che è un livello che secondo me molto semplicemente non ha bisogno dello scouting, ma loro come noi saremo da oggi in poi tutti scrutinabili, tutti guardabili. Fino a ieri c'era soltanto il vertice e oggi ci sono anche degli eletti e quindi non c'è da sorprendersi se ciascuno avrà passato i raggi X per i comportamenti, le frasi e gli orientamenti. Benvenuti a bordo. Questo capitava già a chi stava nella prima e nella seconda repubblica nelle istituzioni. E poi c'è il livello degli elettori. Ora ciascuno ha le sue esperienze, ma è di tutta evidenza che qui dentro ci sono persone molto attente a singoli punti di agenda, dagli inceneritori alla TAV. Ci sono quelli che hanno detto molto semplicemente fottetevi tutti, voi e il sistema non c'ho niente da perdere ed è un bel numero, quelli che magari prima si astenevano. Ne abbiamo conosciuto anche quelli che probabilmente hanno votato domenica mattina in cabina entrando convinti di votare PD, poi hanno votato magari Grillo e ci hanno detto, qualcuno di noi li ha incontrati, io ne ho parlato in questi giorni con gli amici, tanto voi vincevate quindi ho pensato di darvi un pungolo per aiutarvi meglio. E questo pungolo è diventato qualcosa di più consistente, diciamo, che volevamo evitare. Però dico per affrontare questi tre livelli, molto semplicemente, sugli elettori, gli elettori sono contendibili, chi l'ha detto ha ragione, sono contendibili i nostri, Dio mio saranno contendibili loro, per cui sarà la forza delle cose che faremo che ci renderà quegli elettori contendibili e riportabili. Non siamo più nel tempo in cui si fanno scelte di fedeltà ai partiti. Il voto si muove, si muove molto liberamente e sappiamo quanti sono stati anche tra i nostri conoscenti i voti disgiunti per ragioni territoriali o per ragioni politiche. Gli eletti saranno non contendibili perché non siamo a comprare nessuno, c'è già qualcuno che ci ha pensato in anni passati e con esiti molto discutibili, ma sono sicuramente agganciabili alle battaglie politiche. Quanto a Grillo secondo me lo dobbiamo sfidare sul tema della riforma dei partiti. Ed è un tema che però interessa anche noi e chiudo Enrico, quindi salto il terzo, e cioè noi abbiamo preso 8 milioni e mezzo di voti e Grillo ha preso 8 milioni e mezzo di voti. Noi abbiamo 90 mila volontari, 10 mila gazebo, i partiti e i circoli, lì non c'è niente. Non è che noi questa sfida sul partito la vinciamo soltanto con la diretta web. In questo anno dove ridiscuteremo di noi stessi, anche il modello di partito è chiaramente in gioco. E allora se sono soltanto 10 secondi, una sola cosa, la mozione d'ordine. Io non voglio mettere in discussione il diritto di parola di nessuno, lo dico con molta franchezza, non ha parlato mai negli ultimi due anni in direzione. Però questo è un passaggio difficile quello che noi ci prestiamo a fare e che oggi speriamo di consegnare unanimemente come mandato a Bersani con gli 8 punti che lui ci ha in qualche modo descritto e definito. Allora per aiutare questo mandato corale io dico qualche intervista e meno non guasta. Io penso che gli italiani sopravvivano tranquillamente se per due settimane evitiamo di affollarci a dare consigli. C'è già Bersani, c'è il capo dello Stato, ci sarà il Parlamento.